Ciao a tutti, siamo qui a Le Mans, giorno prima della gara, le qualifiche sono andate molto bene, abbiamo fatto la pole position della Q1 e poi in hyperball abbiamo chiuso i P5, quindi siamo molto soddisfatti, tipato per noi, daremo tutto durante la 24 ore, un saluto a Varese e a Valentina.